Grazie. Io non troverò più una ragazza come François. Ma cosa dici, dai? No, no. Non si vive due volte quello che abbiamo vissuto io e François. Lei era la donna della mia vita. Ma che cos'ha? Ah, bravo, non faccio così, da prego. Quello che dice lei, immobiliamente certi ricordi, una ferita che non...